ben tornati ragazzi siamo di nuovo qua ci abbiamo fatta finalmente stavo per morire perché c'era un cecchino su quella fottuta torre e ora dovrei andare qua siamo un po' adorato ci ho messo tipo 15 minuti a fare sta cosa perché ho dovuto chiudere il gioco e riaprirlo visto che è riuscito ad arrivare a un buon punto prendo appunto ogni volta che cliccavo con il mouse per sparare era come se il gioco non ci fosse e cliccasse sul desktop e quindi mi usciva mi usciva arriva il culo arriva il fattito di me un po' di me è accanto 30 metri 29 28 27 26 25 24 23 22 2 oggi иг 2 E' il mio dispensabile da rilancio Deve essere tipo questo Aspetta Ma questo è un salto E' un uomo E' un uomo E' un uomo Come difendere? Ah posso anche scendere Secondo me l'ha cagata a scendere però Aspetta Però visto che Non ho capito un emirto cazzo Ecco perchè voglio fare un'operazione Porco lì Non so Non so Qui c'è? 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 lo matto no no e cos'è ma proprio vada oddio ma sì c'è ma limbolo Non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Voi tolto? Voi tolto? Voi tolto? Voi tolto? Struzzo di merda! Mamma che pei... Sonica! Ma dove fai il Dio andando? un ingotto dove? no si vabbè ma da dove arrivo? porca dio che cazzo mi sono rotto i coglioni mi sono rotto i coglioni porca dio mi sono rotto i coglioni mi sono rotto i coglioni e che cazzo? ecco vuoi la da bravo non Andiamo, andiamo. Adesso vediamo No ragazzi Chiudono Appena posso Prendi un po' Prendi un po' ma chi spara ma dove dove si ma arrivo da tutte le parti ma porco dio non è possibile ma dai puro l'ultima volta andare su prima basta mi sono tutti coglioni mi sono contentissimo ma si porco dio si ma dati i coglioni amico sono un deficiente porco dio sono un deficiente perché non hai messo la cazzo di pistola deficiente di merda coglione si vedi ti va ma non me l'ha rimessa porco dio si è deficiente o cosa non so lo calma che cazzo stai attuato mi mettevo completato il tuo madre porco dio sta cazzo di merda ma che cazzo è che cazzo è che non va puttana io puttana eh porco dio mi hai rotto i coglioni mi hai rotto i coglioni adesso basta figlio di puttana figlio di puttana se non hai cominciato il gioco in modalità facile va bene porco dio e che cazzo e la madonna dio porco sclero non sa più e non sa più far niente porco dio sii vabbè sii vabbè sii vabbè adesso un po' di brio un po' di brio muoviamoci un po' di brio prendo giù il cecchino perché prendi la tua affrontata un ancio mettila qua spend spend mettila anche qui e facciamo i coglioni da qua solo adesso ecco 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 un altro un altro un altro l'ordine un po' di cazzo assi un dietro di di si si Sì, vieni qui! Con tempo di tutto Dicami che faccia C'è quanto è passato? Non c'è questo caso. Ma l'abbiamo chiedendo tutto il tempo. Oddio che bello! No! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Basta! Basta! Ragazzi ce l'abbiamo fatta! Forse ce l'abbiamo fatta! Forse ce l'abbiamo fatta! Sì! Esplosiva in catena! Esplosiva in catena! Ma capo! E il duro lo fanno! Cazzo! Sì! Uccisione con l'esplosivo sempre! Uccisione con colpi alla testa! 5! Tempo gioco totale è 41 minuti! Ragazzi ce l'abbiamo fatta! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Ok? Perfetto! Viamo ragazzi! Ci vediamo nel prossimo video! Bye bye!